Il buon governo di Ambrogio Lorenzetti è stato dipinto 700 anni fa, più o meno. Nonostante questo continua a parlare ai contemporanei, come ha parlato agli uomini di quel tempo. Si tratta di un ciclo di affreschi enorme, che è un punto di riferimento per la riflessione sul ben governare e sul bene comune, dipinto nelle sale del Palazzo Pubblico di Siena, dove copre diverse decine di metri di pittura stupenda. Il motivo per cui lo possiamo utilizzare in questa prospettiva della sostenibilità non è per fargli dire delle cose che non sono quelle che in realtà in quel momento Ambrogio Lorenzetti voleva dire, ma perché il suo valore attraversa il tempo per la capacità di comunicare dei contenuti, di utilizzare dei linguaggi che sono comprensibili a tutte le latitudini e tutti i tempi. Fra questi linguaggi c'è appunto il linguaggio dell'integrazione all'interno di una società di tutte le componenti che la compongono, di tutti gli ambienti che la compongono, compresa una grande biodiversità che è suggerita dalla presenza di uomini, animali, persone e movimenti che si leggono sulle quattro pareti.